Ciao, stai bene? Sì, ti hanno seguito? No, 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 ho cambiato taxi tre volte per essere sicuro. Donovan ha sguinzagliato mezza polizia per cercarti. Per la coppia che è tutto, due telefoni usa e getta uguali, il GPS è disattivato, ovviamente. Senti, non posso chiederti di continuare a starmi accanto. Non ce n'è bisogno, mi offro volontario. No, è troppo pericoloso. Bracken ora sa che stavo bleffando, che non ho il dossier con le prove contro di lui. Perché se l'avessi avuto, non avrei dovuto dare la caccia a Volkan. Ho rischiato troppo. Non c'è più niente che gli impedisca di uccidermi, quindi... ora sta facendo la sua mossa e io devo fare la mia. Ho chiamato il suo ufficio a Washington. Bracken è a New York. Allora che cosa vuoi fare? Vuoi affrontarlo senza niente in mano? Ho un'alternativa? Nascondermi e aspettare che mi arrestino. Due giorni dopo finirei impiccata nella mia cella. Poliziotta disonesta si suicida. Forse c'è un altro modo. Ho preso il certificato di morte di Michael Smith dall'ospedale St. Simon. È stato firmato dal dottor Oliver Pressing. È un medico che ha una buona reputazione. Una persona irreprensibile. Il candidato ideale per aiutarti a fingere la tua morte. Hai trovato altri collegamenti fra il dottor Pressing e Smith? In... In realtà sì.